Presidente del Consiglio dei Ministri, il Professor Conte. Gentili senatrici, gentili senatori, sono queste le ragioni che mi inducono a valutare come fortemente responsabile la decisione di innescare la crisi di governo. Per questa via permettetemi di dire che il Ministro dell'Interno ha mostrato di inseguire interessi personali e di partito. L'accordo tra il Cinque Etoile e il Partito Democratico può essere una soluzione anche se le persone come me non sono molto aiutate perché ho avuto molti problemi, ma oggi è importante l'Italia, la sicurezza dell'Italia.